Le magliette gialle in festa all'Alma Gia. Si è tenuta durante la prima giornata del festival dedicato ai giovani la serata conclusiva dell'edizione 2019 di Lavoro in Comune, il progetto di volontariato che vede protagonisti gli studenti delle scuole superiori. Una settimana di vacanza in servizio a favore della città. Numeri altissimi di partecipazione durante l'ultima estate. Oltre a 700 i ragazzi che hanno sposato l'iniziativa frequentando 62 laboratori organizzati in tutto il territorio comunale, dal mare all'entroterra. 108 complessivamente le settimane di volontariato e un video diventato in qualche modo virale sui nostri canali internet, capace di raggiungere 600.000 visualizzazioni e i complimenti da ogni parte d'Italia per il servizio svolto dai ragazzi. Devo dire grande coinvolgimento, sono arrivati in questi giorni anche gli esiti dei questionari compilati dai ragazzi che testimoniano un gradimento alto rispetto a questo progetto che si rafforza, si conferma, coinvolge ragazzi, coinvolge le associazioni del territorio, coinvolge i volontari, coinvolge i cittadini e quindi crea grande possibilità verso quella sensibilizzazione, quella costruzione di cittadinanza attiva che crea consapevolezza per chi poi un domani sarà il protagonista della vita della nostra città. Quindi un esito molto positivo, ricordo che il progetto ha coinvolto oltre 700 ragazzi su 62 progetti, coinvolgendo una morea di associazioni, di cittadini, di singoli volontari che durante tutta l'estate hanno permesso appunto di costruire questi percorsi a 360 gradi sulla nostra comunità, dall'ambiente, alle persone più bisognose, dai nostri fiumi, il nostro patrimonio naturale, le fragilità, i beni comuni, quindi i nostri arredi urbani, i nostri giochi dei parchi, la nostra memoria, la nostra cultura, la nostra arte, credo in maniera molto importante per costruire un valore aggiunto di comunità. Quest'anno ci sono stati molti nuovi laboratori, anche nel Forese. Sì, noi lavoriamo tutto l'anno per costruire ogni edizione di lavoro in comune, nuove possibilità di offerta, nuovi laboratori e cercare anche ovviamente di coprire il più possibile il vasto territorio del nostro comune. Ci siamo riusciti anche quest'anno, alcuni progetti nuovi si stabilizzeranno e diventeranno, penso, a quelli legati al Classis, quindi a nuovi luoghi, a quelli che con ERA abbiamo costruito per sensibilizzare i cittadini alle nuove modalità e all'importanza di fare una raccolta differenziata, per cui credo ecco, c'è questo impegno rinnovato a fare il possibile perché tutti i territori possono esprimere la propria potenzialità e ogni anno ci sia un'offerta maggiorata e migliorata di laboratori. Quali sono le aspettative per la prossima edizione? Adesso poi vedremo e ci confronteremo con tutti il personale dell'Ufficio del Centramento, con gli operatori culturali, con i consigli territoriali, ma credo che insomma nel sorco di questa tradizione si possa sempre cercare di fare meglio e di fare di più. ricordo a tutti che comunque questo progetto è retto e reso possibile solo grazie al volontariato di tanti cittadini, di tante associazioni che consentono tramite il loro lavoro di tutor di impegnare i ragazzi durante la loro settimana di cittadinanza attiva. Perché hai scelto di fare una settimana di lavoro in comune? Per provare una nuova esperienza. Per occupare un po' il tempo libero e per aiutare gli altri. Mi piaceva come idea. Puoi conoscere nuove persone e trovare nuove passioni. Per fare un'esperienza nuova, per conoscere nuove persone. Ho scelto questo laboratorio per mettere in pratica le lingue che studiamo a scuola. Perché innanzitutto volevo fare una nuova esperienza e inoltre mi sembrava molto bello fare questo progetto con i turisti. Mi piaceva l'idea, era per tenermi anche impegnata.